Hanno trovato veramente di tutto, immondizia, lattine, bottiglie, stracci, copertoni, lattine di olio, gettate dagli automobilisti di passaggio lungo l'Alecoballabio o abbandonate da escursionisti incivili. Sabato mattina la pulizia del bosco grazie all'intervento di una trentina di giovani, i più appassionati di corso in montagna, che hanno completamente ripulito il sentiero del passo del lupo. Si tratta di un gruppo di ragazzi volenterosi, maggiorenni e non nuovi a iniziative di questo tipo, spiega il consigliere comunale Giovanni Colombo che ha raccolto questo appello e in collaborazione con l'assessorato all'ambiente del comune di Lecco ha fatto in modo di rendere possibile l'operazione. Questo intervento si differenzia dai precedenti per la necessità di un'organizzazione e di un supporto istituzionale e professionale dal momento che la zona sulla quale i ragazzi sono intervenuti si trova proprio al di sotto di una strada a scorrimento veloce come la SS36 Dir che collega Lecco con Ballabio. Un mezzo della società Silea che gestisce la raccolta dei rifiuti per il comune di Lecco e che ringrazio per la collaborazione ha raccolto a monte i sacchi di rifiuti riempiti dai ragazzi a quali vanno i miei complimenti per lo spirito di iniziativa, spiega l'assessore all'ambiente di Lecco Ezio Venturini che insieme con il consigliere Giovanni Colombo ha preso parte alla giornata. Sono stati fantastici, hanno riempito due camion dell'immondizia, spiega Colombo. Presenti anche il presidente della provincia di Lecco Flavio Polano, il sindaco Virginio Brivio, l'assessore comunale all'ambiente Ezio Venturini e il presidente di Silea Mauro Colombo. Grazie a tutti.